Musica Italiani saggi sulla neve. Secondo le ultime rilevazioni disponibili dal sistema Simon dell'Istituto Superiore di Sanità, oggi il 45% dei lisciatori e degli snowboardisti fa uso del casco, con un aumento notevole registrato nel 2011 rispetto al 2010, ben 7 punti percentuali con differenze da 5 a 14 nelle diverse località sciistiche. E secondo una ricerca condotta dall'Università di Innsbruck, il casco da sci riduce la probabilità di riportare un trauma cranico del 35% negli adulti e del 59% nei bambini di età inferiore ai 13 anni. L'uso del casco risulta superiore negli snowboarder, anche perché da più tempo viene visto come parte integrante di una divisa e non come strumento di prevenzione del trauma cranico. In linea generale, mentre l'uso del casco tra gli lisciatori adulti si attesta al 41%, tra gli amanti della tavola da neve il suo utilizzo arriva al 61%. per vedere il caso di un'unione di casa di Innsbruck 1100. Per vedere il mio reconciliation è proprio il sacco di un uomo della torta.